Ciao ragazzi, benvenuti su Cassio Drums. Nel video di oggi vediamo come salire sul palco. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'altro giorno mi è venuto in mente questo video, perché molto spesso, anche a me capita, di salire sul palco prima o dopo o durante un concerto, eccetera, e aver bisogno delle cose che in quel momento non ce le abbiamo. Quindi ho detto, ok, mi faccio una lista delle cose che possono servire assolutamente quando andiamo su un palco, quando andiamo a un concerto, quando andiamo in un locale a suonare, eccetera, per non avere problemi in qualsiasi caso. Quindi c'è un problema, lo risolviamo con questo. C'è un altro problema, lo risolviamo con questo. Ho cercato tutte le cose su strumentimusicali.net, mi sono fatto mandare questo pacchetto qua, ho cercato tutte cose abbastanza economiche e abbastanza piccole, in modo tale che ci possano stare in uno zaino. Quindi oggi voglio aprire, in realtà l'ho già aperto, ma comunque vedere bene il contenuto di questo pacco qua, di strumentimusicali.net, che ringrazio, e voglio dividere il tutto in due categorie, fondamentale e salvavita. Le cose fondamentali sono le cose, raga, che dovete avere per forza, perché vi servono. Senza quelle non si può fare un concerto, cioè si può fare un concerto, ma dovete avere fortuna che funzioni tutto. Le salvavita, invece, sono quelle cose per il quale il concerto si fa lo stesso, in qualsiasi caso, ma vi possono salvare la vita per quanto riguarda i suoni, per quanto riguarda l'audio, per quanto riguarda un bel po' di cose. Quindi, mi sposto alla batteria, oggi parlerò principalmente, ma vi faccio vedere tante cose carine. Quindi vi consiglio di arrivare fino alla fine di questo video, soprattutto dirmi qual è la cosa salvavita, secondo voi. Vi ricordo che avete tutti i link qui sotto, eccetera, eccetera, eccetera. Basta, mando la sigla, ci spostiamo di là e cominciamo a vedere tutto quanto quello che ci serve, o che ci può servire, ci può aiutare, prima, dopo e durante il concerto. Dopo no, prima e durante il concerto. Sigla, va! Eccoci qui con questo pacchettino, che pacchettino tanto non è, pieno di roba, questo no. Ah, qui intanto c'è Smag, il magazine di strumentimusicali.net, che mi è stato inviato, perché oltre a una certa cifra viene inviato gratuitamente, se no comunque lo potete comprare, eccetera. Allora, mettiamolo qui. Allora, numero uno, ho in testa una scaletta, quindi andrò secondo la mia scaletta. Ecco qua. Allora, questo posiamolo qui. Allora, questo qua è il Gibraltar, non so come si chiami, ma praticamente è un coltellino svizzero per batteristi. Esistono varie chiavette, multitool, eccetera, ma questo qui mi è piaciuto per il colore, perché sembra veramente un coltellino svizzero. Sto cercando un taglierino, è là. Allora, apriamolo e vediamo. Devo dire, molto molto carino, più che altro piccolo, super economico in realtà. Qui abbiamo delle brugole, un cacciavite a taglio e dall'altra parte invece abbiamo cacciavite a stella, uno grande, uno piccolo, una chiavetta per batteria e un cavatappi, che comunque non si sa mai, e tra l'altro da questa parte qua può anche fare cacciavite a taglio un po' più grande. Questo è sicuramente uno di quegli oggetti da avere. Se devo metterlo tra i fondamentali e i salvavita, questo lo metterei tra i salvavita, perché fondamentale se abbiamo una chiavetta non è, però capita spesso magari di dover utilizzare un cacciavite o una brugolina. Cacciavite magari non proprio per la batteria, ma in generale nei gruppi quando si va sui palchi. Sono sempre importanti, quindi questo super consigliato e lo metto tra i salvavita. Quindi non fondamentali che dovete averlo per forza, ma vi può salvare... Avete capito. Poi andiamo avanti. Allora, ecco qua, questo in realtà l'ho già portato sul canale, ma è una roba che assolutamente deve esserci. Proprio assolutamente, assolutamente. Che cos'è? Ve lo apro e vi faccio vedere. Praticamente questo, andate con questa pinzetta qua, ve lo faccio vedere da questa camera qua, con questa pinzetta, andate a pinzarlo qui, più o meno dove volete, potete metterlo dritto o potete anche storgerlo un pochettino. Devo dire che è bello potente, quindi voi lo mettete qui. Ok, in questo modo qua, come potete vedere, non si muove per niente. E qui andate a mettergli le bacchette. Ad esempio, voi state suonando, gli mettete le bacchette qua, non bacchette che dopo che suonate le posate, ma delle bacchette in più. Se per caso vi cade una bacchetta e sarà successo a tutti di perdere una bacchetta durante il concerto, se non l'avete mai persa, bravi, complimenti, scrivetemelo qui sotto nei commenti, ma sarà difficile. Se perdete una bacchetta, ce l'avete subito. Ce l'avete subito lì, altrimenti se non avete questo, dove la prendete la bacchetta? Magari ce l'avete nello zaino, nelle portabacchette, chissà dove cavolo è in quel momento, durante il concerto, mentre non potete mica fermarvi. Quindi, ce l'avete direttamente qua, pigliate e avete subito un'altra bacchetta. Questo anche, in realtà, l'ho preso super economico, perché alla fine tiene bene, quindi l'avevo già provato, tiene bene, è bello potente, è di una plastica bella dura, quindi non avete problemi, e soprattutto lo potete muovere come volete e così non vi dà fastidio mentre suonate. Questo lo metto tra i fondamentali, raga, non è tra i salvavita, ma i fondamentali, perché le bacchette possono cadere durante qualsiasi concerto, durante qualsiasi momento, questo è fondamentale averlo, fondamentale. Andiamo a riprendere qui. Queste qua, magari, le conoscerete tutti, anzi, molto probabilmente le conoscerete tutti, le mungel. Allora, le mungel che cosa sono per chi non le conoscesse? Perché magari c'è qualcuno, ha ancora le prime armi, non le conosce. Le mungel sono delle gelatine di base che andiamo ad applicare sopra i tom. Sto rischiando di farmi un male pazzesco, ma no, perché sono bravo, quindi non mi farò male. Ecco qua. Sono delle gelatine che andiamo ad applicare sul rullante, sui tom, eccetera. Ne avete una, due, tre, quattro, sei. E queste qua sono super appiccicose e nel momento in cui andate ad applicarle su tom, timpano, eccetera, vanno praticamente a togliervi la coda. Queste, io ho preso queste qua perché secondo me sono tra le migliori mungel esistenti. Voi mi direte, sì, ma più o meno sono tutte uguali, le mungel, boh, io uso questo, io uso quest'altro. Più o meno in realtà, perché queste sono lavabili e durano veramente tanto. Quindi queste sono quelle che forse consiglio di più, perché sono quelle più famose anche, ma sono quelle che sinceramente funzionano meglio. Se proprio devo trovarli incontro è che ti lasciano un po' di blu se le lasci tanto sul tom attaccate e non le togli mai. Però di base, se voi andate a suonare il tom, ne tolgono comunque un bel po', guardate se la metto qua. Adesso vabbè, troppo in mezzo, però per farvi capire, vedete quanto ha tolto? E queste sono fondamentali, le metto tra le fondamentali, perché vi possono servire, dovete sempre averle nello zaino delle mungel, perché arrivate il fonico, vi rompe le scatole, magari anche giustamente perché avete il tom troppo lungo, il timpano che risuona un sacco, eccetera, e voi se non avete le mungel fate veramente fatica. Quindi queste consigliate. Volendo, l'altra cosa che volevo dirvi, ah eccola qua, se non avete le mungel potete anche utilizzare il gaffa. Questo qua, gaffa, tanti non conoscono questo nome in realtà, gaffa è gaff tape, è per quello in inglese, è per quello che gli italiani lo chiamano gaffa. Questo volendo può essere utilizzato andando a metterlo sopra come una mungel, diciamo, il problema è che rischiamo che si stacchi un po'. Quindi il gaffa serve per mille cose, perché è un salvavita, questo salvavita, non fondamentale, ma salvavita, perché qualsiasi problema con questo la risolvi. Non hai la gambetta del timpano e gliene scocci una, la cassa va troppo avanti, la scocci e la fai rimanere ferma, ci sono le bacchette, se rompono le bacchette ne avevi solamente due paia le scocci e funzionano lo stesso. Questo non so se funziona in realtà, forse non funziona, forse è un po' eccessivo questo. Però, di base, questo anche per segnarti, magari anche colorati, questo è grigio o argento, ma anche magari per segnare dove abbiamo montato dei pezzi della batteria, il gaffa serve un sacco. Da utilizzare per togliere gli armonici, se non avete nulla va bene, ma se potete, pigliate le mungel, che sono molto meglio e soprattutto consiglio, ragazzi, quando finite il concerto, scatolina delle mungel, tiratele via e rimettetele nella scatolina. C'è chi le lascia lì, poi gli mette la borsa sopra, poi gli rovescia di tutto, eccetera, e poi dice, eh, ma le mungel però non durano. No, dobbiamo, come tutto, tenerle nel modo giusto. Quindi, pigliate la scatolina prima del concerto, mettete, fine del concerto, prendete la mungel, rimettetele nella scatolina e vedrete che dureranno un sacco. Adesso voglio fare una piccola parentesi sulla questione audio, cuffie, eccetera, perché anche per quanto riguarda questa roba qua, ci sono alcune cose che assolutamente dobbiamo avere, che posso prendere direttamente di qua perché l'ho ordinata su strumentimusicali.net, prendo tutte e due insieme, uno e due. Allora, questione cuffie e preamplificatore. Allora, numero uno, tanto le cuffie sapete che cosa sono e come cuffie ho deciso di prendere un paio di cuffie economiche, che in realtà, volendo, possono anche andare bene come cuffie, come prime cuffie, perché comunque le avevo già provate, vi lascio il video qui sotto, e funzionano veramente molto 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 bene, queste Behringer SD251CL, vabbè, comunque sono molto interessanti queste Behringer, e accoppiate, mi raccomando, questo. Ragazzi, allora, questo è un preamplificatore cuffie. Che cos'è un preamplificatore cuffie? Un preamplificatore cuffie è un affarino minuscolo, in realtà, molto 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 piccolo. Adesso ve lo apro, ve lo faccio vedere. Ah, ce l'ho fatta. Eccolo qua, che come potete vedere qui, ha questo affarino che è perfetto da mettere nei pantaloni. Quindi voi ve lo agganciate ai pantaloni, adesso vi spiego anche bene come funziona. Agganciate ai pantaloni, gli fate uscire le cuffie, e praticamente andate a regolarvi il volume, lo ritorgo, ve lo faccio vedere di qua, andate a regolare il volume tramite questa manopolina qua. Questo è molto comodo perché, mentre state suonando, voi fate così, adesso vi faccio vedere, ad esempio, gli mettete le cuffie qua, andate a suonare, mentre suonate potete alzare o abbassare il volume. Se, ad esempio, sentite a un certo punto troppo forte perché c'è qualcosa che vi entra nelle orecchie che assolutamente volete abbassare, pensate senza questo qua, rischiereste di magari dover chiamare il fonico e dire abbassami tutto il volume, eccetera, oppure mille cose. No, fate direttamente voi con questa manopolina qua e vi gestite tutto quello che vi arriva in cuffia. Esistono due tipologie, quello con le pile e quello senza pile, che in pratica servono due pile, come potete vedere qui, due pile stilo. Quelle che vi consiglio è questo qua, con le pile, perché quello senza pile aumenta il volume, quindi questo preamplificatore serve appunto per aumentare il volume delle cuffie, ma non lo riesce a aumentare così tanto. Quello con le pile riesce a spingere di più. Cuffie, come vi ho detto, insieme al preamplificatore, non sto ad aprirvele perché comunque sono delle cuffie Behringer normalissime di quelle che passano qui dietro, vi servono perché come spare, quindi come cuffie secondarie, perché tengo le bacchette qua, oppure come cuffie che nel caso magari in cui andiate in un posto in cui c'è tanto casino, rientro dalle spie, cioè dai monitor che avete per ascoltarvi, eccetera, dite ok, no, io metto le cuffie così mi isolano un po', sento un po' meno, ma riesco a sentire bene con le cuffie. Quindi secondo me un paio di cuffie che magari non utilizzerete, ma le tenete lì perché non si sa mai potrebbero servire, è meglio averle. Quindi questi due cuffie e preamplificatori non fondamentali, ma salva vita, appunto. Se andate in un posto e sentite male, casine, eccetera, magari vi servono anche per il metronomo, dovete sentire bene il metronomo, la possibilità di alzare, abbassare, eccetera, queste vi salvano veramente la vita. Queste col metronomo dovete averle per forza, ma questo vi salva la vita perché decidete voi, non decidono gli altri quello che sentirete voi, decidete voi. Poi, andando avanti, allora, Survivor Kit, che non si chiama così, ma Drummer's Tech Kit di Gibraltar. Allora, questo qua è un Survivor Kit, quindi lo mettiamo all'interno dei salvavita, ma quasi dei fondamentali, perché è una scatolina piccolissima che ci sta ovunque, anche in un... come si chiamano quelli così? In un marsupio, ecco. e all'interno avete un sacco di cose che vi possono servire nel caso in cui le perdiate, nel caso in cui ve le dimentichiate a casa, durante un concerto. E ha un sacco di cose che vi possono servire e vi possono salvare la vita. Allora, prima cosa, feltrini. Seconda cosa, quello da mettere per la cassa dove gli batte il battente, il filo, quello per la cordiera, mettete che si stacchi la cordiera mentre si sta a un concerto, cosa fate? Mica potete suonare il cordullante che suona come un tamburo normale. Prendete questo filo qua, lo mettete alla cordiera e funziona di nuovo tutto perfettamente, vi siete salvati la serata. Questo è quello da mettere sulle aste dei piatti, altri feltrini, questo è un feltrino da Charleston sotto, questi sono due feltrini da Charleston in mezzo, altri feltrini, alcune vitine, che comunque possono essere importanti, magari avete picchiato come degli scalmanati, vi è caduta una vita e non sapete dove sia e il tome è un po' scordato e quindi ne mettete un altro al volo, poi l'altro la cercherete a fine concerto, una chiavetta, che comunque male non fa, e gli affarini da mettere sotto i piatti, quindi sotto i piatti, poi feltrino, piatto, altro feltrino e la girella da ruotare, che non so come si chiama, la farfalla, ecco. Quindi questo Survivor Kit è fondamentale, poi mentre io metto tutto a posto, direi che qui posso fare un taglio al video e andiamo direttamente là, così vi dico ancora due cose e poi ci salutiamo. Quindi ragazzi, allora queste sono le cose, non ho ancora finito, ma queste sono le cose che ci servono durante un concerto, assolutamente, ci sono ancora due cose che vi voglio far vedere, ma qui dentro se non sbaglio non c'è più nulla. No, infatti, allora, numero uno, l'ho messa libero, questa che la metto tra le cose fondamentali, che è una borsa dei piatti. Allora, una borsa dei piatti, la più economica che c'è, non mi interessa che tenga i piatti, è una borsa dei piatti che non serve per i piatti, ma serve per le pelli di ricambio. Raga, prendetevi una borsa, la più economica che c'è, appunto, ma mettetegli le pelli di ricambio dentro, non servono tutte le pelli, serve la pelle della cassa, battente, la pelle battente, risonante e derrullante. Poi, se volete mettere anche Tom, eccetera, pelle risonante della cassa, fate quello che volete, ma quelle tre pelli lì devono esserci assolutamente, perché mi è già successo, per fortuna, mi è successa la terz'ultima canzone di un concerto, ma ho rotto la pelle della cassa e abbiamo dovuto finire il concerto. Mi è andata bene che era la terz'ultima canzone, fosse stata la terza, cosa avrei fatto? Avrei dovuto finire il concerto, cioè, raga, ciao, io non ho la pelle della cassa, non posso più suonare, oppure suonare con il timpano al posto della cassa, ma vabbè, cose che neanche ci voglio pensare, ma se avessi avuto, semplicemente, una borsa con una pelle di ricambio, che non significa una pelle nuova, significa la pelle, magari anche vecchia, di vent'anni, che, però mi può salvare la vita nel momento in cui mi si rompe quella principale. Quindi, pelle cassa, pelle rullante sopra, pelle rullante sotto, dentro una borsa dei piatti. Raga, ascoltatemi, perché vi salva la vita questa borsa. E, ultimissima cosa, che vi voglio dire, non è niente di preso dal pacco di strumentimusicali.net, no, raga, fogli e biro servono assolutamente, perché, non so se vi è mai capitato di arrivare e il chitarrista, ad esempio, vi dice, oh, facciamo quello stacco finale in modo diverso, a parte che queste cose bisognerebbe farle alle prove e non durante il concerto, ma capita, e vi capiterà sicuramente, che vi venga detta questa cosa qua. Oppure, oh, facciamo quel pezzo, questo pezzo qua, tanto è facile e non lo proviamo, perché tanto ci viene lo stesso. Anche questo, non bisognerebbe farlo, ma può capitare che vi venga richiesto, quindi, foglio, biro, scrivete la canzone, avete lo spartito, non potete sbagliare. È vero che fogli e biro si trovano dappertutto, ma, anziché, dovevano andare a cercare, andare a chiedere la biro al bar, al locale, a quello delle birre, eccetera, no, ce l'avete voi, andate, pigliate, ascoltate la canzone, scrivete, pam, sullo spartito, per terra, dove volete, ma avete la canzone scritta e siete a posto, senza portarvi fogli e biro, che so che sembra una cavolata, ma non lo sono e avreste faticato. Senza scriverla, molto difficilmente, ve la ricordereste a memoria, però, scrivendola in questo modo, siete a posto. Quindi, questo non è fondamentale, è salvavita. Questo, invece, è fondamentale. Mi raccomando, ragazzi, non so se l'avete capito, perché ero così prima, quando vi facevo vedere questo, ma, assolutamente, quello fondamentale, foglie biro, ovviamente poi, in qualche modo, li trovate. Quindi, salva vita, ma, se ce l'avete, è meglio. Quindi, con questo, basta, ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti, quali sono le vostre, e se sono queste qua, uguali, se ce n'è qualcuna in più, eccetera, eccetera, mi raccomando che sono, molto curioso, e, basta, trovate tutti i link qui sotto in descrizione, trovate anche il pulsante per iscrivervi, se ancora non siete iscritti, mi raccomando, fatelo, trovate anche il link ai miei corsi, su gastripedrums.it, tutto quanto, e noi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!